in collaborazione con hai sempre desiderato avere tutto sotto controllo trovare le porte sempre aperte sapere quale sarà la prossima tappa prima ancora di arrivarci da oggi il piacere di guidare diventa plus bmw serie 2 active tourer e grand tourer easy life plus anche con navigatore business a 169 euro al mese tannone 50 tag 286 scopritele in concessionaria concessionaria bmw tullo pezzo a san giorgio di mantova e castiglione dell'estiviere tullopezzo.it buonasera cari amici ben trovati settima puntata di basket time il nostro appuntamento del martedì sera dedicato alla palacanestro e al campionato di a2 est vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera sono due ragazzi degli stings alla prima volta nei nostri studi sono due dei nuovi acquisti arrivati in estate luca vencato buonasera luca benvenuto e accanto a lui silver brian ciao silver buonasera anche a te allora partiamo dalle immagini come di consueto dinamica che domenica era impegnata sul difficile campo dell'andrea costa imola mantova reduce da tre vittorie consecutive a caccia del poker anche per rimettere in equilibrio il bilancio tra vittorie e sconfitte per chi non lo sapesse le immagini vediamo com'è andata gli stings ingranano la quarta grandissima prova della dinamica generale mantova che non cade nel tranello dell'appagamento dopo tre vittorie consecutive anzi gioca forse la partita più gagliarda delle ultime settimane sbancando il sempre infuocato palaruggi di imola 84 a 79 c'è grande soddisfazione in casa bianco rossa per un filotto di successi che ha finalmente certificato che la vera mantova è tornata martellò si schiera per la prima volta avvencato in quintetto insieme a corbett amici daniels e candussi l'inizio ha sprombattuto con corbett subito in partita con cinque dei primi sette punti di squadra l'ex di turno ranuzzi segni i primi punti per i romagnoli che spinti anche dal pubblico tornano sotto sul dieci pari alla vena di corbett che ha quindi festeggiato al meglio il suo ventottesimo compleanno si aggiunge quella di daniels e il risultato del primo quarto è 20 a 19 in favore degli stings nel secondo quarto l'andrea costa grazie a borra e tassinari riesce a mettere il muso avanti ma sempre con gli stings alle calcagne all'intervallo lungo il tabellone recita 45 a 42 imola a ritorno sul parquet i ragazzi di tichi comprato e un con finalmente riconoscibile provano a scappare a più 6 ma mantova è sul pezzo e non molla di un centimetro un indiavolato amici beccato dai tifosi mollesi per 40 minuti come consuetudine risponde da campione con due bombe che ammutoliscono il palaruggi ma la partita è ancora lunga imola arriva a 120 secondi dalla fine in parità 76 ma daniels che firma 14 dei suoi 29 punti proprio nell'ultimo periodo segna da due il vero capolavoro che ammazza la partita lo realizza ancora una volta il più odiato dal pubblico di casa amici da 9 metri stampa in faccia maggioli la tripla del più 5 allo scadere dei 24 che chiude la partita alla sirena è 84 a 79 mantova la romagna si conferma terra di conquista per la dinamica che con questo successo rimette in parità il bilancio vittorie sconfitte e risale prepotentemente la classifica e dunque arriva anche il poker per la dinamica che così ritorna in equilibrio 50 50 4 vinte 4 perse partiamo da luca vencato tre cose sostanzialmente la prima tua soddisfazione per essere partito finalmente titolare dopo l'infortunio di inizio stagione la seconda il ricordino che ti hanno lasciato sotto l'occhio la terza con te siamo imbattuti no no essere partito in quintetto sicuramente una un bel recupero da parte mia dopo un mese un mese e mezzo di stop nella nostra squadra per fortuna a livello di esterni siamo molto pieni di giocatori di talento quindi non importa chi parte chi gioca di più che gioca di meno l'importante risultato di squadra quindi logicamente fa piacere però sicuramente l'apporto che danno tutti quelli che escono dalla panchina o quelli che partono in quintetto deve essere lo stesso per poter andare avanti su questa striscia di vittorie che per ora ci rende abbastanza soddisfatti una partita piuttosto insomma maschi è stata quella con imola lo vediamo anche anche se hanno detto che non era fanno una testata ma ti sei ti sei dipinto tu si sono un po lamentati però fa parte del gioco è stata per la prima partita veramente fisica si si vedeva in campo e sentiva fuori che era una partita molto sentita tra tra le due tifoserie tra le due squadre sono le partite che sono belle da giocare perché più la gente ci tiene più c'è fisicità in campo più penso dalla nostra squadra possa tirare fuori meglio di sé come è successo con imola nonostante loro siamo andati solo sopra agli ultimi minuti della partita comunque di cuore di tenacia e di voglia abbiamo dimostrato ancora una volta i passi in avanti che questa squadra sta facendo e poi questa cosa ok sarà una casualità però quattro partite con il mercato dentro e quattro vittorie no sei diventando un talismano no fa piacere logicamente non è questo il motivo delle vittorie si scherza però fa piacere essere rientrato e aver potuto dare un rapporto in campo e soprattutto a livello mentale di fiducia ai miei compagni certo silvere abbiamo parlato di partita fisica tu la sotto hai dovuto sgomitare parecchio domenica con maggioli giocatore d'esperienza però avete giocato l'ha detto anche martellossi una gran partita tutti come come gruppo proprio come squadra sì io non potevo sgomitare come volevo perché non mi hanno permesso di farlo all'inizio ma comunque è stata una partita solida è stato tosto molto fisico e siamo siamo stati bravi di stare lì mentalmente nella partita per tutto il tempo per essere capace di chiudere sopra il punteggio nonostante tutte tutte le cose che succedevano in campo e anche fuori è stata una bella partita allora ne approfitto perché abbiamo già toccato l'argomento intanto vi ricordo anche il numero che vedete in sovraimpressione per mandare durante la settimana i vostri messaggi il 3 6 6 5 7 1 0 6 6 8 insomma abbiamo già toccato l'argomento ti leggo questo messaggio che arriva da casa che ci scrive matteo al di là che poi te ne farò un altro sul discorso di rosetto che è la tua ex squadra mi chiede se sei emozionato all'idea di rincontrare rosetto ma ne parliamo dopo mi chiede se tu e candussi avete rubato la fidanzata a qualche arbitro per venire costantemente riempiti di falli ovviamente in tono ironico però siete un po bersagliati ultimamente anche magari di falli che insomma non dico inesistenti ma fare chi puoi dirlo che non ci sono io ho cominciato la partita tranquillo sapendo che tutte le volte che incontro io e Maggioli sempre molto fisico perché se lui piace giocare dentro anche io noi ci diamo le gran botte è normale a volte troviamo i arbitri che ci fanno giocare e nessuno vi lamenta sappiamo tutti tutti e due che tu mi rimangono pari ci sono a volte arbitri che dicono se cosa voi non potete toccare e infatti c'è stato fischiato un fallo che io stavo lì tranquillissimo e fischio il fallo ok a questo punto o mi incazzo a prendere un tecnico o vado a studiare in panchina a fare quello che dice l'anatore ma comunque il resto della squadra sono stati bravi a non soffrire le nostre mancanza Danyes ha giocato un'ottima partita anche avendo di difendere contro Maggioli giù in aria quindi bravo bravo loro ne approfitto allora per leggere questa volta a luca un'altra domanda che in realtà è relativa più al discorso lunghi ce la fa alessandro scrive la mossa di Danyes da diciamo falso 5 era stata provata in allenamento oppure è stata dovuta al numero elevato di falli accumulati da Brian e Candussi nel primo tempo diciamo che svelaci qualcosa è più la seconda è più stata una mossa dovuta fare durante la partita per il problema di falli di Silvere Caldo perché durante la partita è vero proviamo qualche situazione con Ale o Andrea Casella da 4 però Danyes da 5 diciamo che non è proprio un nostro piano partita diciamo va bene il quintetto piccolo però adesso Danyes da 5 diventa un po' troppo piccolo rispetto invece dobbiamo dire che vuoi per causa di forza maggiore in questo caso i falli dei vostri lunghi è una situazione che comunque ha funzionato ha funzionato sì soprattutto in difesa lui contro Maggioli non ha fatto vedere questa differenza di tonnellaggio che era abbastanza evidente e ci ha dato dentro ha giocato fisico come lui sa di poter giocare finalmente come ho visto che tutti dicono ha giocato davvero Danyes noi ci auguriamo tutti che sia sempre così ogni domenica ha soprattutto la risposta che ha dato a livello caratteriale di voglia è stata determinante per la vittoria finale ecco Silvere parlando con il coach anche la settimana scorsa prima della partita con Verona si diceva Verona è una squadra in cui bisogna fare particolarmente attenzione ai piccoli e magari concedere qualcosa ai lunghi prima della partita con Imola ha detto anche qui magari concediamo qualcosa di più ai lunghi ma teniamo teniamo gli uno contro uno anche in questo caso devo dire che il piano partita ha funzionato bene insomma la lettura della partita è andata più o meno secondo Coppione sì già all'inizio settimana io avevo chiesto a lui cosa vuole fare in rispetto a questo perché Maggioli loro sono due lunghi che piacciono tirare fuori quindi devi scegliere cosa cosa preferisci lasciare lunghi tirare fuori o tenere le penetrazioni dei piccoli abbiamo scelto di lasciare loro fuori è andato benissimo Martello Martello ha la vista giusta ha la vista giusta adesso seguo alla lettera quello che dice Martello finché si vincono le partite il piano partita continua perfettamente così beh che invece dal tuo punto di vista dicevamo rotazioni piuttosto ampie nel reparto dietro con te con Lollo con con Giacchetti con lo stesso Corvette che ha il bisogno può portare il pallone anche se abbiamo visto che quando gioca da due gioca da diciamo guardia tiratrice da realizzatore diventa quasi illegale per la categoria no la Mara ha un talento per questa categoria abbastanza illegale fuori dal comune lo sarei quasi dire è un giocatore quando si accende difficilmente poi riesce a fermarlo perché è capace di fare canestre difficili uno dopo l'altro diciamo che essere in quattro coprire due ruoli deve essere un'arma in più rispetto altre squadre soprattutto per il modo di giocare che noi vogliamo sempre tenere cioè difendere forte e poi sfruttare il nostro contropiede essere in tanti giocatori che possono ruotare e giocare tutti tanto poco quello che decide Martello diciamo che è una cosa che a lungo termine potrà darci tanto l'importante noi dobbiamo continuare a credere in questo continuare a credere nel nostro modo di giocare e sono sicuro che poi raccoglieremo i risultati per strada senza accontentarci delle vittorie ma nemmeno suicidarci per un'eventuale sconfitta perché allo sport può succedere di vincere o di perdere certo una curiosità perché tu sei molto giovane sei un 95 ma sei un giocatore molto insomma inquadrato concreto già un punto di riferimento Silver è uno degli uomini spogliatoio una curiosità amici l'avete laccato un po a Imola visto il clima o sappiamo che è sempre una partita particolare per lui perché a torto in questo caso dobbiamo dire viene beccato per 40 minuti non c'è assolutamente un bel rapporto tra alle amici i tifosi di Imola ma è un pubblico un po particolare quello di Imola dobbiamo dire anche a sentire altre altre tifoserie però ha risposto alla grande ha risposto dal gran giocatore a gran campione quale è nonostante stato bersagliato da un'ora prima la partita fino all'ultimo secondo le tifosi di Imola è sempre rimasto concentrato con l'aiuto di noi compagni che continuiamo a dire di non sentire quello che era fuori di continuare pensare a fare quello che stava facendo lo sta facendo in maniera eccellente diciamo che la maturità e il cambiamento di un giocatore emozionale come lui si è visto nel momento in cui si è acceso dove ha sparato due tiri in fila schiacciato in contropiede ha dedito tutti amici è tornato a essere quello che era in inizio stagione quelli che tutti noi conosciamo non c'è stato bisogno neanche di insomma metterlo calmo si è autogasato da solo silver in questo caso ride amici è stato stato molto bravo penso che la tifoseria di Imola ha aiutato lui perché è una partita così sai che hai tutti contro sei un po più concentrato tutto quello che stai facendo grazie a Imola perché ti ha messo Ale sulla strada che vogliamo vogliamo noi che sappiamo che Ale così ci darà una grandissima mano alla squadra e questo è quello che ci serve assolutamente va bene ci dobbiamo fermare per un po di pubblicità ma poi torniamo perché abbiamo ancora i risultati le classifiche delle immagini particolari tante curiosità e insieme ai nostri ospiti a tra poco eccoci qui seconda parte di basket time in studio con me ci sono sempre luca vencato e silver brian due dei nuovi alfieri della dinamica generale mantova per interrompere un attimo il discorso campionato adesso ne approfittiamo anche per mostrare ai nostri telespettatori delle immagini sicuramente suggestive che sono state girate ieri io le vedo già in preview eccole qua sono le immagini un po di backstage diciamo del dello shooting fotografico che è stato realizzato a palazzo ducale per la foto di squadra e la foto con tutti i componenti della società prima curiosità voi non eravate mai stati a palazzo ducale immagino insomma una bella esperienza per chi viene da fuori io personalmente non ci sono mai stato è stato un bel bel colpo d'occhio una struttura veramente realizzata in maniera molto molto importante già alla vista ti senti entri in un sembra di entrare quasi in un museo dove dici ok qua adesso bisogna stare attenti dove poi piccolina poi siete tutti insomma corpulenti quindi ti viene quasi da parlare a bassa voce per non rovinare quello che ha dipinto no si da parte questo insomma sono anche momenti in cui diciamo di aggregazione di squadra che fanno sempre bene nel corso di un percorso di crescita della squadra sicuramente di solito lunedì è una giornata che stai con la famiglia stai casa tua fai stai in giro fai quello che qualcosa per te stesso perché di solito tutta la settimana stai lavorando ma comunque è stato lunedì trascorso con i compagni di squadra è un posto molto bello comunque è stato stata una bella esperienza mi ha fatto venire anche voglia perché di un giorno passare lì prende il tour del palazzo ducale perché sono il silva turista sì turista qua a mantua perché ci sono così tante persone che vengono fuori da mantua per vedere il palazzo ducale io che sono qua perché no ecco allora ne approfitto per chiedere visto che voi siete la prima esperienza come vi state trovando in città diciamo con l'ambiente con la società visto che voi siete due dei nuovi silva per adesso abbastanza bene a parte la nebbia ecco infatti vuol dire a parte la temperatura perché tu tra l'altro sei riduci da esperienze al sud dove il clima è tutt'altro si è completamente diverso io sento le persone a roseto o giù da dove viene mia moglie che dicono che è ancora estate e qua c'è cinque gradi una mattina quando mi sveglio per portare i bambini a scuola quindi tu invece sei più abituato da Bresciano si si è un clima familiare un clima familiare mi sento a casa praticamente ecco no tu giocai a casa al Busterlengo non hai fatto neanche così tanta strada però importante per te come prima diciamo esperienza lontano da casa al P dove tu praticamente sei cresciuto insomma cestisticamente parlando da quando avevo quattordici anni sono stata a casa a Busterlengo come prima esperienza scegliere Mantua è stata una scelta importante perché devi essere sempre in grado di scegliere il posto giusto soprattutto dove provare a iniziare la tua carriera sportiva qua a Mantua hai trovato persone fantastiche la società ti sono sempre vicini non ti fanno mancare niente la città è bellissima la nebbia a me va benissimo tanto ormai ci vivo dentro quindi tutto perfetto va bene andiamo a vedere anche allora i risultati tornando in clima campionato del weekend appena trascorso in Serie 2 eccoli qua li vedete già in grafica ottava giornata con Trieste che ha sbancato 95-92 il campo di Recanati con 28 punti di Daros la Fortitudo che conferma il suo ottimo momento e vince 73-65 contro Forlì Ferrara cade in casa 69-82 contro Ravenna nonostante i 24 punti di Roderick Treviso si aggiudica il big match di giornata 83-78 contro Roseto a Roseto non sono bastati 30 punti di Smith per Treviso 17 di Moretti la Virtus che continua a vincere 88-79 contro Iesi con una prova super solita di Lawson da 22-10 rimbalzi Verona che conferma invece il suo momento di difficoltà e perde 56-62 in casa contro Udine e Piacenza che cede 76-67 a Chieti trascinata dai 21 di Golden questi i risultati con big match Silver, Roseto e Treviso sono due delle formazioni più in forma e più forti di questo campionato poi su Roseto apriamo una parentesi tra poco con te ragazzi Roseto è forte no Roseto sta fatto sorpresa a tutti quanti in questo campionato io sono abbastanza sicuro di questo nessuno aspettava che cominciavano la stagione così specialmente dopo un pre stagione dove se non sbaglio hanno sempre perso è stato difficile mettere tutti quanti insieme il coach Emanuele Pall'Antonio ha fatto un gran lavoro di mettere tutti i pezzi insieme e anche Adam Smith segnano così tanti punti hai un ottimo ricordo tu di Roseto mi sembra di capire sono stati anni belli per te sì io ho passato due belli anni a Roseto Roseto basket è quello che vivono tutta la città si fanno sentire la domenica quando c'è il palazzetto quasi pieno è una curva pienissima è stato molto bello lì sole e spiaggia non è come qua quella nebbia e freddo è stato bello ma comunque sono contento per il coach e il loro staff che sono riuscito a impiazzare una squadra vincente in questo campionato dopo aver perso tutti i giocatori l'anno scorso e niente adesso stiamo facendo bene stiamo facendo bene devono venire qua a provare a vincere però vediamo la classifica così poi arriviamo anche al prossimo turno classifica adesso Luca che insomma inizia a farsi interessanti anche per Mantua è in un gruppone 8 punti con Trieste, Udine, Ferrara però insomma dopo un avvio di campionato in cui era sul fondo della graduatoria adesso insomma è in una zona che compete di più agli Stings sì sì sicuramente l'inizio di campionato è stato un po' una sorpresa anche per noi che di certo non ci aspettiamo di essere la prima della classe ma neanche l'ultima quindi è stata un po' una sorpresa però secondo me ci ha dato quello stimolo con la motivazione di lavorare sempre più duro per dimostrare che non siamo da ultimi posti ma vogliamo essere da primi posti adesso ci piace un po' di più però di certo non siamo per niente soddisfatti e appagati di dove siamo ancora vediamo allora anche il prossimo turno perché siamo quasi in chiusura ne approfitto anche per leggere un paio di domande una rispetto al match di Rosetti insomma abbiamo già risposto al fatto che Silver si è trovato bene è contento comunque di affrontare i suoi ex compagni l'altra domanda invece per Luca Vencato ce la fa sempre Matteo dice come intendete comportarvi se ci puoi svelare qualcosa in difesa su Smith lo marcherete normalmente sperando che si isoli e cerchi di vincere da solo cercherete proprio di limitare lui primi approcci verso la prossima partita questa è una scelta che spetterà a Martellossi e lo staff noi faremo ciò che ci diranno comunque è un giocatore che io penso non si possa pensare di tenere a 10 punti perché sta viaggiando con medie stratosferiche e di certo sarà molto molto difficile che lui faccia una partita dove non riesca mai a segnare penso che abbiamo giocatori in grado di marcarlo e soprattutto abbiamo una difesa che sta iniziando a lavorare sempre più di squadra quindi secondo me il problema non sarà tanto limitare lui o lasciare più libero lui e limitare gli altri ma sarà continuare con il nostro processo difensivo di crescita dove tutti sono forti uguali noi dobbiamo cercare di fermare tutti e dimostrare nei duelli di uno contro uno che dobbiamo essere più forti indifensivamente rispetto a loro bene poi una curiosità perché sempre Matteo ci scrive Luca da play ti suggerisco di non passare più la palla a Casella visto lo 0 su 120 di domenica perché è uscita sul sito delle statistiche della Lega c'era Casella che ha dato 0 su 120 e con 2 su 127 hanno dato un po' i numeri quando l'abbiamo visto in pullman l'abbiamo un po' massacrato dicendo che deve passare un po' più la palla se non è la sua serata assolutamente va bene noi siamo in chiusura grazie di cuore a Silver Brian e a Luca Vencato in bocca al lupo per domenica e per tutto il proseguo del campionato noi ci lasciamo come di consueto con le 10 azioni più belle della settimana e attenzione alle posizioni di vertice perché ci sono anche i colori bianco rossi tra 7 giorni Pader in post per Reynolds contro Pipitone spanno la sport e l'Ather Janet Reynolds non ci pensa due volte Ancelotti intanto fa tremare il canestro della Palamagenti con un'imperiosa schiacciata Contropiede strepitoso Riccardo Cortese il blocco di Smith Moreno lo insegue Bela le 1 che va a schiacciare riparte di là Deandre Daniels che va fino in fondo Bela va di là Imola servono i punti Va Conn prende il primo posso mamma mia Travis Conn schiaccia meno 2 di Imola 20 per lui 65 a 67 in collaborazione con hai sempre desiderato avere tutto sotto controllo trovare le porte sempre aperte sapere quale sarà la prossima tappa prima ancora di arrivarci da oggi il piacere di guidare diventa plus BMW Serie 2 Active Tourer e Grand Tourer Easy Life Plus anche con navigatore business a 169 euro al mese Tannone 50 TAEG 286 Scopritele in concessionaria concessionaria BMW Tullo Pezzo a San Giorgio di Mantova e Castiglione dell'Estiviere tullopezzo.it